Ciao bambini! Allora oggi facciamo un ripasso generale di tutto quello che abbiamo fatto di geometria. Vi ho messo un link sul registro elettronico dove voi potete guardare le cose da ripassare, ci sarà anche un quiz alla fine da fare, però ci sono delle cose che non abbiamo fatto a causa di questa didattica a distanza, abbiamo ridotto degli argomenti. Ora io vi faccio vedere velocemente quello che vi ho, diciamo, linkato, ok? Come ve lo faccio vedere? Vado su registro elettronico, vado su didattica, appena va ve lo faccio vedere, ripasso geometria, ok, vi si aprirà questa scheda. Geometria classe quarta. Cosa abbiamo scoperto? Per una breve panoramica su quanto abbiamo affrontato durante questo anno scolastico. Allora, se voi andate qui sopra, vi fa vedere i punti interattivi, cioè i punti su cui voi dovete cliccare per avere dei contenuti in più. Allora, vedete qua? Mi clicca questo, guardate, lo vedete? Che mi segna questo? Allora, io faccio così, strappiamo una pagina, qui ci sono i capitoli, va bene? Vedete che ci sono la mappa generale, le linee, gli angoli, le trasformazioni geometriche, i poligoni, perimetro e aria. Di tutte queste cose voi non dovete fare l'aria perché non l'abbiamo ancora fatta, ok? Stacchiamo. Cosa abbiamo scoperto? Allora, scusate, siamo tornati alla home, dobbiamo di nuovo, andiamo qua, mappa generale, ecco qua. Che cos'è sono questi? Abbiamo incontrato e approfondito i tre enti geometrici, classificandoli per dimensioni. Vi ricordate? Abbiamo sul piano e sullo spazio, abbiamo le linee, le figure, i piani e i solidi, abbiamo visto che le linee sono aperte, chiuse, semplici, intrecciate, ok? Abbiamo visto un po' di queste cose, bisogna ripassarle bene. Questa è una citazione di Paul Klee, la linea è un punto che è andato a fare una passeggiata. E parliamo di tutte le linee, come potete vedere. Vedete cosa c'è scritto qua? Se io vado qui sopra sul più, la linea retta si può indicare con le lettere minuscole o con le lettere di due suoi punti che giacciono sulla retta. La retta può essere orizzontale, verticale e obliqua. Quindi se andate su questi più, vi dice qualcosa di più delle cose che sono scritte qui, ok? Vado avanti, ci sono le rete complementari, parallele, incidenti, perpendicolari, tutte cose che abbiamo fatto. Poi abbiamo l'angolo, parliamo di angoli, lo ripassiamo. Poi abbiamo come si misura un angolo, ok? Poi abbiamo come sono gli angoli, vedete angolo giro, angolo piatto e tutte le figure, dobbiamo riguardarle bene. Poi abbiamo le trasformazioni geometriche, cioè le isometrie. Le abbiamo fatte, vi ricordate, la traslazione, la rotazione e la simmetria. Le abbiamo fatte. E qui riprendiamo un pochettino, guardate qui, i segmenti che uniscono i vertici corrispondenti hanno la stessa lunghezza e direzione e verso. Avete le stesse cose anche sul libro, ok? Quindi bisogna ripassare bene tutte queste cose, la rotazione, l'abbiamo fatta, abbiamo fatto la simmetria. Vedete? Ti fa vedere qui le cose in più. Poi vado avanti. La similitudine non l'abbiamo fatta, quindi potete anche saltarlo, questo. Io l'ho fatta in generale. Poi si parla di poligoni. I poligoni invece li abbiamo fatti. Parliamo di tutto quelli che sono i poligoni. Vedete? Qui sul più ci sono delle informazioni in più. Sul più ci sono delle informazioni in più. Molto bene. Qui abbiamo come possono essere... scopriamo come possono essere che cosa i poligoni. Qui abbiamo che cosa? Vedete che si apre una scheda simile a quella che noi conosciamo, anche dei triangoli. Va bene? Dei parallelogrammi. No, dei parallelogrammi non l'ho messo. Sì, dei trapezzi sì. Molto bene. Poi cosa abbiamo? Ecco, perimetro e aria. Il perimetro sì. Lo dobbiamo ripassare. Tutto. L'area no, perché non l'abbiamo fatta ancora, bambini. Quindi questo lo potete non fare. Da qui in poi inizia il vostro quiz a cui dovete rispondere. Vedete? Ci sono tutte le domande. Osserva questa linea e classificala. Ovviamente, bambini, questo lavoro non lo dovete fare qui sopra al video. Dovete farlo sul link di questa pagina dove non c'è la mia voce, dove non ci sono io, perché altrimenti non riuscite a farla. È per questo che ve l'ho messo separato. Questo qui è solo per farvi vedere. Osserva questa linea e classificala. Com'è? Mista e intrecciata aperta. Spezzata e intrecciata aperta. Mista e intrecciata e chiusa. Ok? Forse sarà questo? È sbagliato. Vedete cosa succede? Ok? Giusto. Se è giusto, vi succede questo. E vi dovete andare al quello dopo. Va bene? Allora, bambini, questo qui è un ripasso. Ok? Venerdì guarderemo qualcosa insieme. Non dovete fare niente, dovete solo fare questo quiz. E se volete mi potete dire quante ne avete fatte giusto o quanto ne avete fatte sbagliate. D'accordo? Se non vi ricordate qualcosa, ritornate indietro. Come faccio a tornare indietro? Vedete che c'è la casetta con la home? Io vado qua sopra e ritorno esattamente qui. Ok? Mi raccomando, lavorate bene e ci vediamo venerdì. Baci baci a tutti. Ciao ciao!